Salve buonasera a tutti, per continuo la fase positiva delle principali piazze finanziarie europee che chiudono per la quarta seduta di fila al di sopra la parità. I DAX chiude a più 0,27%, l'Ibex a più 0,38%, il CAC di Parigi è l'unico che chiude al di sotto la parità e precisamente a meno 0,16%, poi abbiamo il Fuzzi Londra a più 0,54% e il Fuzzi Mip che chiude a più 0,58%. Bene, oggi per quanto riguarda le news che sono state rilasciate, molto interessante è seguire, soprattutto abbiamo seguito anche durante la diretta live di stamattina, il bollettino della Banca Centrale Europea, ovvero la Minut, all'ultimo meeting che si è tenuto il 13 dicembre del 2018. Secondo la riunione del Consiglio Direttivo e della BCE, la situazione in Europa è fragile e fluida, ciò va un po' a contribuire al rallentamento dell'economia della zona euro, quindi va a confermare una situazione un po' particolare, che quindi ci sono dei rischi sull'attività economica che avrebbero dovuto servire a essere rivisti al ribasso. Quindi questo è quanto emerge dalla BCE relativa al meeting dello scorso 13 dicembre, in cui è stata confermata, come ben sappiamo, la fine del quantità di vising, alla fine appunto del 2018. Nella riunione del Consiglio Direttivo della BCE di dicembre, poi è stata suggerita anche l'ipotesi di rivedere un altro TLTRO della politica monetaria, da segnalare che tali operazioni sono dei finanziamenti a tassi agevolati alle banche, quindi dovrebbe essere una misura lanciata per sostenere la liquidità delle banche. Poi, durante la sessione americana, abbiamo assistito, c'è stato il calo delle richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione, classico appuntamento di metà settimana, che nella prima settimana di gennaio, quando sono appunto scivolate a quota 216.000 unità, contro le 233.000 unità della settimana prima. Gli analisti si aspettavano un dato in ribasso a 225.000 unità. Domani, invece, è venerdì 11 gennaio, ultimo giorno della settimana, si parte già da stanotte alle 9.30 con le vendite al dettaglio dell'Australia in novembre, poi alle 10.30 abbiamo una serie di indicazioni in arrivo dalla Gran Bretagna con il PIL del mensile, la produzione industriale e manufatturiera e il saldo della bilancia commerciale. Sul finire, alle ore 14.30, quindi durante la sessione americana, abbiamo l'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre. Bene, andiamo a vedere adesso che sono stati e oggi come si sono mossi nei principali scenari, partendo appunto dall'eurodollaro. Bene, per quanto riguarda l'eurodollaro, c'è stato in questo momento, vedete, continua questa movimentazione a ribasso, quindi il prezzo fa una falsa rottura in 1.15.312, andando quindi a fermarsi sulla zona 50.61.8 del ritracciamento calcolato dall'ultimo massimo raggiunto esattamente nel mese di settembre, 24 settembre, nel giornale del 24 settembre, agganciandolo a quella del 12 novembre. Quindi, questa situazione, quindi vedete come si è formato un punto di swing tra il 50 e il 61.8, ed dopo aver raggiunto questo massimo, quindi il prezzo è andato ancora adesso, si sta movimentando a ribasso, al momento ci troviamo a meno 60 punti. Quindi andando un po' a recuperare i venditori ciò che hanno perso, quindi dalla movimentazione di ieri. Bene, peccato che praticamente stamattina avevo indicato come è possibile zona di storno, questa zona di supply, che però non è stata, il prezzo ha iniziato a movimentarsi più in basso. Ovviamente nel caso in cui stasera abbiamo un breakout, 1.15.312, domani potremmo dare una, ci potrebbero stare delle opportunità di vendita con un primo target, intorno a 1.14.093 livello annuale, dove è molto vicino anche al pivot, il pivot mensile, per poi poter puntare in caso di una rottura importante di questa zona di 1.14, il prezzo potrebbe ritornare un'altra volta intorno al minimo che è stato raggiunto nella prima settimana di novembre. Per quanto riguarda invece il dollaro yen, come da indicazione di stamattina, eccolo qua, dollaro yen, quindi classico, abbiamo una crab rialzista, quindi un pattern armonico rialzista con il punto D a 107.10, c'è stato il primo movimento, il primo impulso, poi abbiamo la prima correzione, eccola qua, la correzione dove praticamente vedete come si è appoggiato sul 50.61.8, questo movimento si vede meglio anche in ottica H4, quindi impulso, correzione, punto di swing, è il prezzo che si è riportato un'altra volta sopra, questa volta al più o mensile, e da quest'opera potrebbe continuare la movimentazione al rialzo. Con un primo target intorno al 109.587, il secondo target potrebbe raggiungere 110.756. Molto interessante seguire anche Serena Dollaro, in cui la Serena potrebbe subire delle movimentazioni ribassiste a causa della situazione, non rosia, che sta attraversando la MEI, il primo ministro inglese, dove molto probabilmente, poi il 14 gennaio ci sarà anche il voto, e molto probabilmente la cosa non è tanto, appunto come ho detto prima, non è tanto rosa per il futuro per quanto riguarda la MEI. Questo perché? Perché praticamente potrebbe addirittura essere sfiduciata, quindi potrebbe ritornare alle elezioni anticipate, oppure un'altra situazione potrebbe essere un no deal, quindi un no deal dove in pratica, e quindi a questo punto un'uscita senza nessun accordo, e quindi si potrebbe ritornare un'altra volta ad elezioni, come ulteriori si potrebbe rindire un altro referendum, per quanto riguarda sempre in merito al discorso relativo alla Brexit. Poi andiamo a vedere invece USDCAD, quindi ho chiuso le due operazioni a 107 punti e a 22 punti, adesso il prezzo sta correggendo, vedete quindi praticamente dopo questa movimentazione è lecita una correzione, al fine della correzione entrerò un'altra volta in direzione del trend di fondo, che al momento rimane ancora ribassista. Molto interessante da seguire, invece è US crude, in questo momento il prezzo è andato a testare questa trendline, torna, c'è questo movimento a 52 e 53, quindi praticamente siamo un'ulteriore fase rialzista, al di sopra questa trendline molto probabilmente il prezzo potrebbe ritornare, potrebbe spingersi praticamente al prossimo, alla prossima resistenza a 55 e 78. Mentre invece per quanto riguarda l'oro, l'altro, il metallo prezioso, continua una, abbiamo questa decisa movimentazione ribassista, siamo intorno al primo target, stiamo raggiungendo il primo target, alla rottura di 1287,256, al breakout, nonché anche al breakout del pivot settimanale, questa situazione potrebbe continuare anche durante, potrebbe, questo movimento ribassista potrebbe accompagnare anche l'ultima giornata, ovvero la giornata di domani, con ulteriori movimentazioni al ribasso. Vedete abbiamo tanti punti di swing, lo punto di swing più importante, dove anche sul giornalino, vedete, abbiamo un pattern armonico. Interessante invece da seguire anche come il Dow Jones, il Dow Jones in quanto, partiamo dall'analisi su H4, su H4 abbiamo una Black Swan, una Black Swan, quindi praticamente abbiamo un, abbiamo questo pattern armonico, una Bearish Swan, quindi praticamente vedete come il prezzo è andato a riprendere, si è posizionato sotto 24.056, resistenza annuale, resistenza che già è stata, vedete, già è stata testata, esattamente, esattamente, nella giornata, del 19 dicembre, per poi ritornare, questa è una zona di supply, e adesso vedete come è andato a fare una prima correzione, per poi, molto probabilmente, se questo punto di swing si mantiene al di sopra, il primo massimo, il massimo primario, uno swing low primario, dove appunto è presente il punto D, eccolo qua, del pattern armonico, da questa zona potrebbe partire una movimentazione a ribasso, movimentazione dove potrebbe incontrare il primo target di intorno a 400 punti, quasi, 380 punti, a 23.367, e potrebbe cadere anche di altri 800 punti, a 22.937. questa situazione si vede molto bene, vedete, su H1, questo è il punto D, che abbiamo indicato prima, con ciusura, plottata su H1, quindi, del pattern armonico, e da questa zona, vedete come sta iniziando, su proprio al 78, 88,6, 78,6, 88,6, livelli che vengono utilizzati, appunto, per chi analizza anche i movimenti armonici, quindi da questa zona è iniziato la movimentazione a ribasso, ovviamente si aspetta un close, una chiusura di sotto 23.861, il pivot mensile, per poter aumentare le forze di vendita, bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo quindi domani mattina, con l'ultima diretta live della settimana, alle ore 8.30, buonasera da tutti.